Effettuato a Siena, all'azienda ospedaliera universitaria sienese, il primo intervento in Toscana di protesi di spalla con l'ausilio di un navigatore GPS. Si tratta di una tecnica innovativa effettuata dalla professora Stefano Giannotti, direttore della scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia e responsabile della UOC Ortopedia Universitaria. La tecnica permette di impiantare la protesi con la guida dei sensori GPS, aumentando la precisione e permettendo alle stesse protesi di dare risultati più duraturi nel tempo. Ascoltiamo il professor Giannotti. La particolarità di questo intervento è quello di utilizzare un'innovazione tecnologica già in uso nella protesica di anche di ginocchio, ma che ha la possibilità di avere un grosso campo di applicazione anche nella spalla. L'uso della navigazione computerizzata, naturalmente in sala operatoria, è un sistema che ci consente attraverso uno studio TAC preoperatorio di personalizzare per il paziente la tipologia di protesi da utilizzare a livello della glena, che è un osso molto piccolo per cui è abbastanza difficoltoso posizionare la componente e soprattutto fissarla. Attraverso questo sistema noi potremo studiarlo e pianificarlo preoperatoriamente e utilizzare con il navigatore la correttezza dell'esecuzione dell'intervento in sala operatoria. L'uso del sistema di navigazione permette, dopo aver eseguito la TAC della spalla del paziente, di studiare in 3D l'eventuale deformità ossea e di ottimizzare così il posizionamento dell'impianto da utilizzare caso per caso, attraverso l'uso di uno specifico software. Ascoltiamo ancora il professor Giannotti. La protesi inversa di spalla è la protesi di spalla attualmente più utilizzata in Italia e in Europa. È una protesi che ci consente di poter garantire la risoluzione delle problematiche dell'artrosi di spalla, ma anche le problematiche legate alla mancanza dei tendini della spalla per usura, che si possono verificare in fasce d'età abbastanza avanzata. e ci garantisce di ovviare alla mancanza delle strutture tendine e di raggiungere un movimento funzionale normale in una spalla. Le basi di innovazione legate a questo tipo di sistema sono legate indubbiamente al miglior posizionamento della componente glenoidea e, come dicevo prima, la fissazione attraverso le viti, perché questo sistema, questa componente protesica, prevede una stabilizzazione con delle viti che potranno essere posizionate nella maniera migliore per garantire la sopravvivenza più a lungo di questo impianto.